Buongiorno, oggi volevo spiegarvi un metodo per finire nelle caselle in cui volete senza sprecare dadi allora vi faccio vedere, io per esempio ora ho 7 dadi è un po' lunghetta la cosa ma è l'unica maniera nuova dopo che hanno patchato quella vecchia allora ho 7 dadi, bene, dovete fare così, dovete togliere tutto internet e fare un tiro ok in questo caso la prigione, vediamo se mi va bene, se mi va bene riattivo subito internet mi è andata bene quindi posso riattivare subito internet ok dovrebbe avermi ridati ritogliamo internet e facciamo un altro tiro 9, a me non piace cosa dovete fare ora? 7 dadi, dovete chiudere ne avevo 8 dovete chiudere il gioco, dovete andare su informazioni app utilizzo memoria, cancella dati, cancella dopo che vi ha cancellato tutto, riattivate pure internet rientrate nel gioco un attimo che carica accettate, vi collegate a facebook ovviamente perché vi ricaricherà il vostro account ok, fate ok, carica e come potete osservare noi ci troviamo appunto con 8 dadi nella prigione nella prigione come avete visto ha annullato il tiro ora voi quando entrate dovete ovviamente guardare un po' tutto perché vi saranno, ce l'hanno è come se aveste caricato l'account ok, e dopo che avete fatto questo di nuovo disattivate internet tirate il dado e in questo caso mi ha dato 11 vi faccio vedere che funziona perché dovete chiudere il gioco finché non vi da una stazione per esempio o quello che vi interessa andate su informazioni app cancella dati, cancella dopo che avete cancellato attivate internet ritornate nel gioco prima mi aveva dato 9 adesso mi ha dato 11 e vi faccio vedere che rientrando nel gioco noi siamo di nuovo con 8 dadi in prigione quindi se avete del tempo o magari vi manca poco per qualcosa potete tranquillamente fare questo metodo qui o anche sempre se vi va solo che come vedete è un po' lungo da fare ed ecco come appunto ho 8 dadi e sto di nuovo in prigione ora lascio internet perché comunque utilizzo un dado i nostri album i nostri amici tutto quanto nostro torneo e vi faccio vedere che prima è andato 9 adesso 11 adesso io non rifarò lo stesso trucchetto ma vi faccio vedere che se tiro mi da un altro numero per esempio 6 ok in questo caso vi bastava se non vi piaceva togliere il wifi e fare lo stesso procedimento quindi questo è il nuovo metodo è un po' lunghetta la cosa ma appena vi abituate un attimino secondo me risulta anche abbastanza veloce io vi saluto è molto carino questo trucco ma magari ne usciranno degli altri alla prossima grazie a tutti